Paolo Grossi, diciamo che sei uno dei giocatori più attesi in questa stagione, ma voglio partire da quella dell'anno scorso. Ci hai messo una pietra sopra, come te la sei vissuta? Adesso a mente fredda che giudizio ne dà? Come ogni anno ci metti una pietra sopra sull'anno precedente perché comunque bisogna sempre guardare avanti. Sicuramente mi è dispiaciuto per come sono andate le cose. L'andata, nonostante avesse avuto qualche problema, l'avevo fatta abbastanza bene. Purtroppo il ritorno non ho mai giocato per vari problemi fisici. Sono il primo a essere dispiaciuto, ma non è che mi infortuni da solo. Sono cose che capitano purtroppo e spero quest'anno di poter dare qualcosina in più. Dal punto di vista tattico si preannuncia anche qualche novità, anche per quanto ti riguarda. il mister ti ha provato nella posizione di trequartista. Poi vedremo se ci insisterà o se proverà anche qualcosa di diverso. La tua posizione più congeniale, anche alla luce delle partite dell'anno scorso, qual è in questo momento? Sì, abbiamo fatto due cacchiere col mister. Il mister sembra predilica questo rombo e facendomi giocare a trequartista è dove praticamente io sono nato. Io sono sempre a disposizione del mister. È normale che lì mi piace giocare e se giochiamo con questo modulo penso mi proverà soprattutto lì. Se cambierà modulo vedremo dove mi posizionerà, però io sono sempre a disposizione dell'allenatore. Si dice che Paolo Grossi deve ancora abituarsi alla Serie C. Per un giocatore che ha fatto categorie superiori non è semplice. C'è un fondo di verità in questo oppure no? Magari un pizzico di verità c'è sicuramente, però sicuramente io non penso di essere spregato in questa categoria. Evidentemente se sono qui, perché in questo momento mi merito l'Arezzo, sono felice di essere qui. Quindi non penso al mio passato, io penso al mio presente, al mio immediato futuro e darò il massimo per l'Arezzo. Ho chiesto anche a Davide Moscardelli, che è un giocatore di esperienza, come hai vissuto questo periodo estivo che per l'Arezzo è stato un po' tribolato, con qualche incertezza in più rispetto al previsto. Purtroppo il calcio ad oggi ha qualche problema. Sicuramente è un dispiacere vedere e sentire queste problematiche, però sembra e si spera che tutto si sia risolto e quindi si guarda avanti. Noi comunque abbiamo il compito di dare il massimo in campo. Poi questi altri problemi li risolveranno chi di dovere. Obiettivo tuo personale di squadra, quale possiamo dire che sia adesso in data 20 luglio, metà di luglio? A me piace sempre vivere giorno per giorno le cose. È normale che il pensiero è quello di vincere tutte le partite, però è giusto partire dal basso. Noi siamo una squadra in costruzione, il mister è nuovo e quindi stiamo lavorando giorno dopo giorno per raggiungere gli obiettivi a mano a mano. Sicuramente il primo obiettivo da pensare è la salvezza di squadra. Personalmente è migliorare quello che ho fatto l'anno scorso.